In questo tutorial di corso di Joomla.it vedremo come è possibile installare il CMS Joomla all'interno dello spazio web offerto da AlterVista. Il primo passo da compiere è andare a scegliere il nome del nostro dominio, AlterVista offre gratuitamente lo spazio per un dominio di terzo livello, noi qui andiamo a inserire il nome che vogliamo dare al nostro sito, ipotizziamo qui di scrivere tutorial1joomla.altervista.org clicchiamo su prosegui, AlterVista ci confermerà adesso che questo dominio è disponibile, dobbiamo a questo punto andare a creare il nostro account andando ad inserire i nostri dati di registrazione e poi cliccheremo su prosegui, AlterVista ci invierà un email nella quale noi dovremo digitare un link per andare a confermare l'attivazione del nostro account e quindi della possibilità di creare un sito su AlterVista. Questa è l'email, AlterVista ci fornisce anche dei dati che noi utilizzeremo sia per la creazione del sito, in particolare del database, sia per l'accesso attraverso FileZilla al cartello del nostro sito in remoto, lo vedremo comunque fra poco. Noi intanto andiamo a copiare questi dati, quindi dati utente e password e poi andiamo a selezionare questo link, in questo modo noi andiamo a confermare l'attivazione del nostro account, si apre così la pagina di gestione del nostro sito, andando su AlterVista noi possiamo andare a gestire i file, andare ad attivare un database e una serie di altri parametri funzionalità, iniziamo cliccando su gestione file, noi qui dobbiamo andare a eliminare questo file, quindi index.html, selezioniamo su cancella, attendiamo la conferma da parte di AlterVista e confermiamo ovviamente di voler annullare e cancellare questo file, a questo punto noi dobbiamo andare ad attivare un database, quindi andiamo su risorse e upgrade e da qui noi andremo ad attivare un database standard, selezioniamo, selezioniamo database e selezioniamo come database, database standard, confermiamo le modifiche, AlterVista ci chiederà un ulteriore conferma, quindi selezioniamo nuovamente sul pulsante conferma, a questo punto noi abbiamo attivato un database MySQL, quindi abbiamo la possibilità di andare a creare il nostro sito, se selezioniamo su Alter sito database, noi avremo la possibilità di andare a gestire il nostro database, in particolare dall'area di gestione phpMyAdmin, in questo momento ancora il sito non esiste, quindi quello che dobbiamo andare a fare è andare a inserire il sito Joomla all'interno di AlterVista, noi andiamo adesso sul sito di riferimento italiano di Joomla, quindi joomla.it e andremo a scaricare il file compresso del CMS Joomla, andiamo alla voce Downloads, andiamo a selezionare la sottocortella Joomla 2.5 e andremo a selezionare l'ultima versione stabile e disponibile di Joomla 2.5, qui vediamo in questo caso è 2.5.7 nella versione italiana, quindi clicchiamo direttamente il link di quest'ultima versione disponibile di Joomla 2.5, andiamo a selezionare sul pulsante Download e procediamo con lo scaricamento del file compresso di Joomla. Una volta terminato il Download di questo file, noi andremo a scompattare questo file compresso in modo da avere la cartella di Joomla, andiamo a recuperare questa cartella, andiamo a estrarre i file contenuti all'interno di questo file compresso, ci ritroviamo così con la cartella di Joomla con all'interno tutte le cartelle e i file che compongono il nostro sito Joomla. Quello che dobbiamo fare adesso è andare a trasferire tutte queste cartelle e i file del nostro sito Joomla all'interno dello spazio che ci viene offerto da AlterVista. Lo facciamo attraverso FileZilla, dobbiamo qui inserire host, username e password, andiamo a recuperare i dati che ci sono stati forniti precedentemente da AlterVista, su host dobbiamo inserire il nostro nome utente .altervista.org, sarà il nome ovviamente anche del nostro sito, sul nome utente inseriamo il nome utente che ci è stato fornito, qui incolliamo e andiamo a incollare anche la password che AlterVista ci ha indicato. Andiamo quindi a connetterci, selezioniamo il pulsante e a questo punto vediamo che siamo connessi con il nostro server in remoto. Noi dovremmo andare ad aprire la cartella del nostro sito Joomla, andare a selezionare tutte le cartelle e i file contenute all'interno e effettuare l'upload. Una volta terminato il trasferimento, noi possiamo andare a controllare in quest'area se ci sono tutte le cartelle, chiudiamo FileZilla e rientriamo in modo da verificare che siano presenti tutte le cartelle e i file del nostro sito Joomla. Andiamo a inserire nuovamente i dati, quindi l'host, il nome utente e la password. Conectare le cartelle. mettiamoci e vedremo comparire tutte le cartelle e i file del nostro sito. Ecco qua, noi possiamo ovviamente andare a verificare che ci siano tutte le cartelle e i file. Dovremmo andare adesso innanzitutto a modificare un parametro. Andiamo a rinominare il file htaccess.txt e lo trasfermiamo in .htaccess. Siamo così pronti al processo di installazione vera e propria di configurazione del nostro sito Joomla. Per farlo dovremo seguire una serie di passaggi che Joomla stesso ci indicherà. Andiamo quindi sul browser. Dobbiamo digitare il nome del nostro dominio, quindi in questo caso è www.tutorial1joomla.altervista.org e poi scriviamo slash installation. In questo modo inizieremo il processo di installazione e configurazione del nostro sito Joomla. Vediamo subito questa interfaccia grafica. Il primo passaggio è scegliere la lingua e lasciamo italiano, quindi proseguiamo. Il secondo passaggio sono i controlli preinstallazione. Alcuni sono dei controlli fondamentali. Questa parte in alto devono comunque comparire tutte sul sì, altrimenti potrebbero esserci dei problemi sull'installazione. Su impostazioni raccomandate vediamo che ci sono le differenze, ma potremo modificarle tranquillamente in seguito. Il terzo passaggio è la lettura delle condizioni e la licenza di utilizzo di questo CMS. Clicchiamo ancora su avanti. Qui c'è uno dei passaggi fondamentali che è la creazione di un database e il collegamento tra il sito e il database stesso. Dobbiamo andare a inserire dei dati. Come tipo database lasciamo l'impostazione predefinita. Dobbiamo adesso inserire il nome del database. Torniamo su Alter Vista. Qui siamo alla voce database del nostro Alter Sito. Clicchiamo su phpMyAdmin. Dobbiamo accedere quindi al pannello di gestione amministrativa del nostro database. Da qui noi andremo a recuperare il nome che avrà il nostro database. Inseriamo i dati che sono i soliti forniti da Alter Vista. Noi accediamo così a phpMyAdmin che sarà utile soprattutto per la gestione del database quando il sito sarà ovviamente sviluppato. Qui a sinistra vediamo l'indicazione del nome del database. My slash tutorial1 Joomla. Noi dovremo andare a inserire questo nome direttamente nello spazio che abbiamo appena visto. Torniamo sul nostro sito Joomla. Inseriamo sul nome database My underscore tutorial1 Joomla. E poi andiamo a inserire il nome utente e la password. Sono i soliti dati che abbiamo già utilizzato. Quindi andiamo a copiare e incollare negli spazi corrispondenti. Inserito questi dati possiamo procedere e cliccare su avanti. Il passaggio configurazione FTP possiamo saltarlo. Quindi selezioniamo anche qui su avanti. Siamo all'ultimo passaggio. Su configurazione principale dobbiamo inserire il nome del domino del nostro sito. Quindi qui inseriamo semplicemente il nome del nostro sito. Dobbiamo poi andare a inserire i dati di esempio di Joomla. Per quanto riguarda l'amministrazione, quindi di accesso al pannello amministrativo di Joomla. Inseriamo l'email dell'amministratore. Dobbiamo inserire il nome utente dell'amministratore. Qui lasciamo intanto admin. E poi scegliamo la password. Noi possiamo qui sotto poi andare a caricare i dati di esempio di Joomla. Possono essere utili se non abbiamo dimestichezza con questo CMS. Abbiamo adesso installato quindi dati di esempio che ritroveremo non appena noi apriremo il nostro sito Joomla. Clicchiamo su avanti. L'ultimo passaggio sarà l'eliminazione della cartella installation. Noi possiamo eliminarla anche digitando questo pulsante. Abbiamo eliminato questa cartella correttamente, quindi siamo pronti per accedere al nostro sito Joomla. Se selezioniamo qui sito, veniamo riportati direttamente al nostro sito. Ed ecco qua. Sono presenti i dati d'esempio che sono quelli che noi abbiamo installato. Se non avevamo inserito ovviamente tutti questi dati d'esempio, il sito si sarebbe presentato vuoto. Noi possiamo accedere anche al pannello amministrativo, quindi il nome del dominio del nostro sito slash administrator. Si aprirà il pannello di accesso all'area amministrativa di Joomla. Dobbiamo inserire il nome utente e la password dell'amministratore, quindi non il nome utente del database ma dell'amministratore, quindi admin, la password che avevamo selezionato e poi ovviamente accediamo all'area amministrativa di Joomla. Siamo così pronti a creare e gestire il nostro sito direttamente online utilizzando i server di altervista. Altri tutorial sono disponibili sul sito www.corsodijoomla.it. Se sei interessato a conoscere le basi per creare un sito attraverso Joomla puoi seguire il corso di Joomla Basic disponibile sempre sul sito www.corsodijoomla.it.